Per difendere la nostra dignità, ribellarsi è un dovere. Tu, italiano, che paghi le tasse, che vieni insultato perché è italiano. Tu, che sei senza lavoro. Tu, malato, che chiedi aiuto. Tu, studente, che lotti per la tua scuola. Tu, madre di famiglia, che non arrivi alla fine del mese, che rovisti negli avanzi del mercato per trovare cibo. Tu, commerciante, imprenditore, che ti stanno facendo chiudere. Tu, genitore, che le banche ti hanno portato via la casa. Venite, venite il 9 dicembre, vieni al nostro presidio per dire basta allo Stato, ai politici, ai sindacati, a questo governo che ci ha tolto la dignità e l'onore. Siamo tutti italiani, riprendiamoci la nostra Italia, siamo italiani. Presidio Mercato Ortofrutta, autostrada A4. Perché ci stanno facendo tutti i nostri che pensi, a questo governo che si fissile, a questo governo che non riuscano, a questo governo che non riuscano, a questo governo che non mi piace dal mondo, negli aspettatori, a questo governo che non arriva, Tra i vergogna ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire, ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire.